è vero che il mal di testa può dipendere dalla digestione dal fegato a volte può accadere quando le sostanze che possono risultare anomale non vengono neutralizzate a sufficienza dal fegato l'aumento che ne deriva causa disturbi anche il mal di testa che talvolta viene dopo mangiato può essere anche quello un problema di fegato probabilmente a causa di un'alimentazione non sempre appropriata in questi casi può essere indicato l'amaro medicinale Giuliani perché favorisce la digestione e svolge un'azione benefica sulle attività del fegato prima o dopo i pasti principali amaro medicinale Giuliani è un medicinale usare con cautela